passato quel tempo si sentì chiggiare nel bosco ciclopete 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 e su un caballo bianco comparve il principe e sontuosamente vestito calza maglia rete pantaloncini hot pants giubbino plissé maniche coie reverse guanti lunghi caschetto biondo giarettiere e tacchi a spillo una specie di renato zero travestito da raffaella carla così elegante e raffinato che si era guadagnato il nomignano di samantha come la mutanda di biancaneve il principe vi dei nani e disclamò che carini piccoli ma proporzionati veramente una bella famiglione poi vede biancaneve e disclamò voglio assolutamente baciare quel merluzzo che sta nel pirex ora come abbiamo detto biancaneve stava nella nella barra di cristallo da dieci anni col pezzo di mela in bocca teneva l'alito verde aveva fatto le cozze anche sopra il coperchio del tauto bara infatti il principe fino a quel momento era stato il principe avana solo dopo il bacio si era trasformato in principe azzurro perché era diventato irreversibilmente cianotico poi aveva anche tentato di baciare un cinghiale che passava da quelle parti per farsi il fiato per rifarsi il fiato aveva vista la madonna e cantato quattro volte sono una donna e non sono una santa non tentami non sono una santa finché biancaneve non si risvegliò dal suo sonno di morte allora il principe la guardò intensamente le disse perché non vieni da me al castello laverai e stirerai pulirai per terra zapperai l'orto cucinerai ramenderai mi cucirai i vestiti terai pulito il castello e se ti avanza nel cinque minuti pronta biancaneve lo interruppe ma che bambina fortunata poi il principe ripresa la parola biancaneve a occhio buono le spose biancaneve io questa l'ho già sentita da qualche parte probabilmente anche il principe aveva un'infarinatura di suoi un'infarinatura di suoi